Cerca di capire questo. Il modo più veloce e migliore per risvegliarsi non è l'autoindagine, non è l'osservazione, l'essere il testimone. Queste cose sono per i discepoli e per i ricercatori, ma per il devoto il modo più veloce e migliore è il silenzio. Mantenere la mente tranquilla, non combattere la mente. Quando combatti la mente è come picchiare una mucca con un bastone per portarla dove vuoi che vada. Guardare la mente in silenzio senza preoccuparsi di cambiare alcun pensiero è come persuadere la mucca con dell'erba. Così la mucca ti seguirà ovunque tu voglia che vada. Quando impari a sederte nel silenzio, nell'acquite, tutto accadrà da solo. Tutto si prenderà cura di sé. Tutto accadrà da solo. La idea è di non preoccuparsi dei propri pensieri in alcun modo. Non importa che tipo di pensieri ti vengono in mente, non fa differenza. Quali pensieri ti vengono in mente, non cercare di osservarli, o di esserne testimoni, o di cambiarli, o anche di chiedere da chi vengono. Siediti, semplicemente con un sorriso stampato in faccia, e lascia che chi o che accada, lascia che chi o che sta per accadere avvenga, senza la tua interferenza. Solo per stare fermi, quindi questo è il modo migliore e più veloce per risvegliarsi in questa vita. Robert Adams